Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video del mio canale No, un nuovo video Sì Insomma ragazzi in questo video siamo finalmente nella sponsorizzazione Mi stavate facendo una testa così Questo video allora abbiamo un bel po' di commenti E vediamo chi sono queste persone che hanno scritto questi commenti E andiamo appunto a sponsorizzare i loro canali Ok andiamo subito a sponsorizzare la prima persona che sarebbe I am Matt Andiamo subito a vedere il suo canale di cosa parla Prima cosa Allora Allora Questo qui mi devo iscrivere al suo canale Iscriviamoci ragazzi E Allora parla Marioidea extradentata Cioè è un insetto quindi Gli insetti mi scrive Ah ok ha fatto anche due video di Insomma videogiochi con la PSP Quindi Dovrebbe Trattarsi sia di insetti che di videogame Come faccio io Ma Io tratto anche di petardi C'è un argomentino In più Poi Andiamo a sponsorizzare Creepy Gamers TV Allora Lui sono iscritto Perché lo seguo da un bel po' di tempo Ed è un bellissimo canale E' un fan della saga di Five Nights at Freddy's Quindi farà video C'è ad esempio sulla pagina di Scott Codon Su Su FNAF World Infatti guardate Il Fa le top 5 sulle musiche Che si suona su YouTube Ma la maggior parte appunto è su Five Nights at Freddy's Poi Non solo ha fatto un vlog Che io ho guardato E Insomma dove chiedeva che videogioco fare Non ho messo un commento ancora Però Aspetto Un altro video Poi ragazzi Megamike TV Davide Cariei Mi sponsorizzi Ma certo Megamike Eccolo qui Ok 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 Allora 19 iscritti Iscriviamoci anche noi Perché Noi siamo bravi Perché 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 Vabbè News del canale Come usare Power Director Ah ok Dice un po' di Giochi Ok Li fa anche un altro bambino Non so chi sia però Insomma Fanno un po' di video Diversi Cioè Penso un po' su Videogiochi Un po' di vlog Ci sono molti vlog Molti Purtroppo Molti vlog E vabbè Iscrivetevi al suo canale Poi Michele Martinese Andiamo a vedere subito Qual è il suo canale Allora ragazzi Chi Non ha Cioè Chi ha un canale Ma Non mette i video Non mette quello Non mette quell'altro Non posso sponsorizzare Cosa Sponsorizzo Cioè Mi scrivo Ma Non ha contenuti Quindi A caso Cioè Non c'è niente Poi Yum Ho mangiato Ho mangiato Il profilo Vabbè ragazzi Il video finisce qui Con le sponsorizzazioni Farò La seconda parte Dove Se mi lasciate Altri commenti Nell'altro Cioè Nel prossimo video Cioè Insomma Vi sponsorizzo Per uscire Tra tipo Un bel po' Vabbè ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Uuuu Uuuu